1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, siamo per iniziare, benvenuti a tutti, aspettiamo che le persone in sala si finiscono di sedere, ringraziamo chi ci segue da casa, scusandoci del ritardo nell'inizio della presentazione rispetto all'appuntamento, due minuti e cominciamo. Allora, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti alla presentazione del libro di Valentine Lomellini che oggi è qui con noi insieme a Benedetta Dobaggi, è la prima presentazione dopo l'estate quindi riprenderemo con la presentazione appunto di questo libro le nostre iniziative ricorrenti che facciamo appunto sui temi di nostro interesse, questo è un libro assolutamente di nostro interesse e Valentine l'ha già presentato, è uscito da un po', quindi ci sono state molte presentazioni ma con Benedetta oggi vorremmo un po' provare magari ad approfondire cose più diverse se così è possibile, dalla conversazione vedremo quello che tiriamo fuori è certo che per noi è un libro importante, chiederò una delle prime domande che ti farò perché abbiamo diciamo uno stile molto dialogato in queste presentazioni, ci piace che ci possiamo esprimere liberamente diciamo così, è proprio da dove è venuta questa idea di scrivere su questo tema te lo chiedo perché ovviamente è noto a tutti un tema molto controverso si è parlato per anni del Lodomoro, in realtà tu nel libro ovviamente nel saggio dai tutte le indicazioni per poter anche capire le dinamiche di utilizzo del termine Lodomoro e diciamo inquadrandole invece in una politica italiana ed europea che lo tradurrebbe in qualcosa di simile all'Odo Italia e non all'Odo Moro ossia un'abitudine consolidata e poco scritta della politica italiana di dialogo con gli altri paesi ovviamente filoarabi per quanto riguardava la nostra politica in quegli anni e quali sono state poi l'uso che si è fatto di questo termine tra l'altro appunto imputandola a un uomo che non c'era più a un uomo che era stato ministro degli esteri nel nostro paese per tanti anni parleremo anche di questo perché ci interessa la tua politica proprio la tua opinione sulla politica internazionale quindi vorremmo riflettere su questo però ecco la prima domanda che ti ho accennato è quella relativa alla scelta è ripartita così, ci sei arrivata con le tue ricerche e quindi quali sono state le motivazioni di questa scelta? Sì, grazie, grazie Ilaria intanto grazie davvero per l'invito io sono veramente molto contenta di essere qui appunto all'archivio Flaminio e Flaminio quindi ringrazio molto Ilaria Moroni sono molto contenta di discutere con lei e anche con Benedetta Tobagi con la quale insomma abbiamo anche avuto modo di avere degli scambi su questi temi nel passato e quindi sì, partiamo dall'inizio sostanzialmente l'inizio, dunque la verità è che questo libro mi ha un po' cercato credo, nel senso che io sono sempre stata mi sono sempre interessata al terrorismo italiano anche se all'inizio della mia carriera accademica mi sono occupata più di storia politica delle relazioni internazionali dei partiti però il tema del terrorismo è un tema che mi ha sempre molto interessato e ormai 6-7 anni fa ho iniziato a lavorare a un macro progetto che peraltro, last news, uscirà appunto sempre con la terza febbraio il titolo è stato deciso ieri si chiamerà la diplomazia del terrore ed è un progetto più ampio che diciamo prevede la ricostruzione delle politiche degli stati europei nei confronti del terrorismo arabo-palestinese quindi questo è un po' il quadro nel quale mi muovevo scrivendo questo libro è un libro che insomma mi ha anche impegnato tanto tempo nel senso che sono stati 5-6 anni di ricerca insomma che ho dedicato a questo studio a un certo punto ho iniziato a vedere una serie di documenti che parlavano più o meno indirettamente del lodo documenti di origine italiana ma anche e soprattutto documenti provenienti da archivi stranieri in particolare i primissimi documenti che mi sono venuti in mano in questa direzione erano dei documenti dell'archivio del ministero degli esseri francese nei quali sostanzialmente si parlava appunto di questo presunto accordo che l'Italia poteva aver stretto con appunto alcune frange del movimento dell'organizzazione per la liberazione della Palestina e devo dire che quando ho iniziato il progetto 6-7 anni fa mi ero fatta una promessa io mi ricordavo un po' cos'era il Lodomoro nel senso che avevo letto qualche cosa sulla stampa come tanti a metà degli anni 2000 e quando ho iniziato a lavorare su questo tema ho pensato ci lavoro ma il Lodomoro no perché il Lodomoro è uno dei grandi misteri d'Italia è un tema poco studiato scientificamente ma molto abusato per certi versi è un tema molto delicato io insomma non sono più una giovane ricercatrice però insomma sono ancora in una fase ovviamente di definizione della carriera e quindi ho pensato è un tema troppo scottante quando a un certo punto un po' per caso devo dire nel senso che prendendo vedendo una grandissima mole di documenti anche alcuni dei quali appunto conservati presso l'archivio centrale di Stato di Roma mi è venuto in mano questo documento nel quale si parlava effettivamente di questo incontro avvenuto nell'ottobre del 73 tra i principali ministeri che si occupavano appunto delle politiche di sicurezza ho pensato eh no allora allora non posso esimermi e quindi è un po' nata così l'idea e ricordo l'ho raccontato insomma visto che siamo in un contesto così piacevole e anche amicale mi permetto di ricordare questa cosa a Padova c'è una piazza molto bella si chiama Prato della Valle una piazza enorme e un tardo pomeriggio ero lì che passeggiavo e pensavo no io lo devo scrivere il Lodomoro lo devo scrivere lo devo scrivere e quindi alla fine insomma è uscito è uscito questo libro bene meno male mi viene da dire io credo che sia proprio un libro importante io devo dire adesso sono entusiasta non perché sono alla presentazione io da tempi non sospetti appena è uscito l'ho letto subito ne ho scritto subito e trovo veramente che sia un libro importante perché dà la dimostrazione appunto che rispetto a questi temi che hanno intorno questa specie di cappa, di coltre, di mistero di complotto e diciamolo di strumentalizzazione politica ci arriviamo dopo perché prima stiamo sulla sostanza delle cose però perché una studiosa non ha voglia di occuparsene perché chiaramente questo tema è entrato nel dibattito pubblico in maniera strumentale la stessa espressione Lodo Moro comunque è stata coniata da un altro politico che è peraltro il delfino di Moro Francesco Cossiga e per cui deve farci riflettere che comunque si è entrata nel discorso pubblico con una connotazione che ovviamente è molto pesante perché in qualche modo si è attribuita a una figura politica singola quella di Aldo Moro che appunto come diceva Elaria Moroni non poteva più nemmeno discutere sulla natura di questa politica facendo pesare sulle sue spalle il peso di un accordo che in nome della ragione di Stato comunque metteva a repentaglio vite umane e di fatto autorizzava un passaggio di terroristi e armi che se non colpivano in Italia da qualche altra parte colpivano quindi c'è questo discorso e poi l'altro tema che lo rendo così scottante lo esplicito se qualcuno che ci ascolta non ha familiarità è che di Lodo Moro si è parlato tanto perché è stato usato per anni quasi esclusivamente per corroborare l'ipotesi di una pista alternativa una pista palestinese per la strage di Bologna ok di queste cose ci torniamo dopo il grande lavoro che ha fatto e poi alla fine ci divertiremo come De Serra a parlare degli archivi ti chiederemo tutto anche perché sappiamo che ci segue un pubblico di appassionati che hanno grande familiarità con queste tematiche però appunto il grosso lavoro che ti hai fatto lavorando su uno spettro di documentazione io pensavo anche più di 5-6 anni perché veramente ha fatto un lavoro di ricerca imponente è prima di tutto non l'Odo Moro ma l'Odo Italia cioè una politica portata avanti per anni ai massimi livelli della politica italiana nemmeno solo italiana come politica cioè l'Odo viene restituito alla sua dimensione internazionale ed europea e poi viene anche sottratto alla dimensione esclusivamente di intelligence e viene restituito a una dimensione invece politica alta e qui comincerei anche a interpellarti subito su uno degli aspetti più interessanti che poi tu sviluppi perché? perché ovviamente se si immagina anche qui si vede come la ricerca in realtà poi porta luce e anche risulta molto più logica una volta che tu dispieghi il disegno perché era talmente frastagliato il mondo l'universo la galassia del terrorismo palestinese che chiaramente come avrebbe potuto reggere questo accordo se fosse stato stipulato soltanto a livello di intelligence e soltanto con questa galassia di gruppi terroristici tra cui peraltro c'erano schegge impazzite come a Bunidal tu giustamente metti subito sul tavolo i documenti ampiamente come per far sì che tenesse questo accordo l'Italia non solo negozia con gli stati i paesi santuario cioè i paesi che proteggevano il terrorismo palestinese in primis la Libia e l'Iraq per cui ti chiederei di entrare in questo discorso così entriamo nel vivo sì sì grazie per aver toccato questo tema perché secondo me è un tema centrale del mio studio e anche forse uno degli elementi più interessanti più innovativi ecco fino adesso ci sono stati diciamo degli studiosi che si sono occupati di Lodo Moro prima di me senz'altro forse però il punto di vista adottato ecco non era stato così quello internazionale e effettivamente forse proprio è questa dimensione internazionale che restituisce un po' un quadro più complessivo che ci aiuta a capire la dinamica del Lodo come diceva Benedetta il Lodo sino a qualche tempo fa è stato definito come un accordo tra servizi segreti o comunque quasi una politica autonoma dei servizi segreti italiani in realtà il tentativo proprio del libro è quello di ricondurre la logica del Lodo a una dimensione altra che quasi ci conferma la preminenza o afferma diciamo la preminenza del politico su quella che è l'azione dell'intelligence o l'azione diciamo dei quadri medi del governo e dell'amministrazione diciamo governativa e il Lodo fu in qualche modo il frutto di una decisione appunto agli alti piani del potere fu una decisione politica cioè l'idea di stringere un accordo di trovare un'intesa o di aprire un dialogo chiamiamolo come vogliamo con appunto da un lato diciamo i movimenti che si rendevano responsabile dell'attuazione di attentati terroristici e dall'altro e soprattutto con quegli stati che sostenevano direttamente o indirettamente questi movimenti terroristici è stata una decisione politica adottata sulla base di una serie di come dire convinzioni dettate proprio dall'analisi della realtà e in primo luogo un dato di fatto cioè sostanzialmente il fatto che l'Italia così come tanti altri stati europei la Francia la Svizzera la Repubblica Federale Tedesca l'Inghilterra erano stati minacciati cioè si trovavano di fronte a una minaccia di pubblica sicurezza una minaccia di pubblica sicurezza di carattere transnazionale cioè quella di un movimento in una primissima fase soprattutto diciamo quella che va appunto dal 68 al 73 di un movimento che utilizzava il terrorismo e utilizzava l'esportazione del terrorismo nel quadrante europeo per perseguire una politica a livello internazionale e il passaggio secondo me chiave e che veramente ci restituisce il significato profondo di questo dialogo di questo accordo è il momento in cui l'Italia insieme ad altri paesi europei si rendono conto che non stiamo più parlando di schegge impazzite soltanto come diceva giustamente prima Benedetta ma stiamo parlando in realtà di alcuni stati che per ragioni di politica internazionale utilizzano il terrorismo come strumento di diplomazia del terrore come strumento di diplomazia internazionale e questo secondo me è un elemento molto importante da tenere in considerazione perché ci spiega sia la ragione per la quale questa questione viene gestita ad alti livelli quindi il ministero degli interni il ministero degli esteri il ministero di giustizia a un certo punto addirittura la presidenza della repubblica quindi parliamo veramente dei vertici decisionali del nostro paese sia perché questa è la seconda ragione a un certo punto di fronte a una minaccia che è insondabile e anche direi poco comprensibile anche appunto agli apparati che all'interno dello Stato si occupavano di sicurezza lo Stato decide di aprire un varco di aprire un dialogo e di cercare di trovare potremmo chiamarlo un modus vivendi con appunto questi terroristi che tutto sommato appunto minacciavano il nostro paese ecco mi hai proprio lanciato l'amo per la domanda che volevo fare meglio di così non poteva venire aprire un dialogo perché viene utilizzato Moro ovviamente collegandolo al lodo Moro tu lo riporti sia dall'introduzione e anche oggi ripensando diciamo Benedetta Tobagi citava Cossiga come diciamo colui che lega simbolicamente il lodo Moro a Moro ma questo tutto ciò parte dai 55 giorni del caso Moro Moro nella prima lettera a Cossiga del 25 marzo del 78 lettera che per chi non ricorda doveva rimanere riservata quindi Moro scrive è la prima lettera che esce con il primo comunicato delle Brigade Rosse Moro dice a Cossiga in via riservata come diciamo dal suo punto di vista di politico navigato si poteva risolvere questa questione che altrimenti sarebbe degenerata semplifico le parole sono note e sin dalla prima lettera a Cossiga lui parla di scambi di prigionieri politici riporta in cinque lettere se non sbaglio me l'ho rappuntato per essere precisi ossia la lettera all'ambasciatore Cottafavi la lettera a Dell'Andro e la lettera a Piccoli e infine nella lettera alla Dicicola del 27 aprile del 1978 la proprio riferisce alla liberazione di palestinesi ma che cosa succede nell'immediato del 78 non si collega quello che Moro da politico navigato come giustamente la Lomellini stava ampiamente diciamo cercando come poi ha documentato nel libro che questa era una decisione politica una strategia politica che da anni si praticava e che poi si è praticata negli anni ma si lega a Moro e alla sua quasi Moro il pavido Moro che piange perché vuole ritornare alla sua famiglia e che quindi chiede di essere liberato e chiede che la ragione di Stato venga meno quando la ragione di Stato realmente poi noi lo vediamo nelle dimostrazioni documentali era venuta meno molte volte per la salvezza dello Stato e Moro utilizza queste parole che in realtà poi quando lui non c'è più vengono utilizzate contro di lui e lui che non può rispondere avevo esposto perché la lettera di Moro alla democrazia cristiana del 27 aprile del 78 viene pubblicata dal messaggero il 28 aprile del 78 e nonostante sia praticamente la quarta volta che lui riporta la questione dei prigionieri politici e dei palestinesi non c'è nulla riferito a questo e invece tutto poi il collegamento che si ha tra Moro e Lodomoro è successivo è negli anni a venire è come abbiamo detto collegato alla strage di Bologna come avevamo accennato ritorneremo su questa cosa della strage di Bologna l'unico accenno importante che il messaggero riporta è una dichiarazione di Andreotti che dice non si tratta con chi ha fatto scempio del diritto mi sembra Benedetta che ha girato pagina è in diretta delle leggi perché il discorso finto oggi sappiamo trattativa fermezza perché in realtà si è trattato e questa è la cosa che ancora di più ci interroga come se si è trattato per la liberazione di Moro realmente se quel partito della fermezza in realtà esisteva perché si voleva dare un'apparenza di qualcosa che in realtà non era cosa Moro davvero ci voleva comunicare in quei giorni secondo me tu ce lo restituisci ampiamente in questo proprio sul discorso che stavi facendo precedentemente ossia scindere questo lodo questo accordo questa pratica politica perché poi è quello che negli anni in realtà è vero che molti studiosi cioè alcuni studiosi hanno scritto sull'odomoro ma è vero pure che noi abbiamo una stampa che sull'odomoro è stata univoca e devo dire mio malgrado anche se poteva mettere in discussione invece in realtà anche la provenienza stiamo parlando di Cossiga giustamente tu fai anche riferimento al fatto che Cossiga non poteva non sapere anche per i suoi ruoli di vertice politico in quegli anni quindi quanto hanno contato i 55 giorni e la distruzione politica che i 55 giorni hanno operato sulla figura di Moro perché quello è stato altrimenti sarebbe stato ucciso in via Fani il 16 marzo del 78 invece l'obiettivo politico era appunto distruggere quella figura politica dimenticando anche tutta l'innovazione della sua politica estera perché anche questo è presente e secondo me è centrale quanto la politica estera italiana con Moro e non solo con Moro ma in realtà fosse innovativa anche per gli anni in cui ci trovavamo Moro noi nel sito che abbiamo dedicato a lui nel centenario aldomoro.eu abbiamo anche creato una mappa interattiva che fa vedere come negli anni Moro va in paesi dove non era mai andato nessuno paesi dell'Africa c'è tutta l'apertura alla Cina c'è questo forte europeismo Moroteo che tende appunto in un clima di guerra fredda a farsi l'idea e il pensiero era quello che un'Europa forte ovviamente metteva l'Italia in un'altra dimensione nel campo della guerra fredda e quindi credo sia indissolubile il legame tra il lodo Moro e il caso Moro allora è indissolubile sì per le ragioni che tu citavi poc'anzi cioè senz'altro questi riferimenti anche espliciti insomma che Moro fa alle trattative preesistenti lo rendono rendono i due casi per certi versi correlati dall'altro c'è una costruzione come giustamente tu rilevavi c'è una costruzione che si basa diciamo secondo me su due elementi importanti che almeno questi vorrei ricordarli allora il primo elemento è questo in realtà dunque è vero che Moro effettivamente menziona la trattativa con i guerriglieri è anche vero e questa è una come dire questione abbastanza inedita a mio avviso che la prassi dei paesi europei non solo dell'Italia dei paesi europei rispetto alla gestione proprio al crisis management delle crisi dettate dal terrorismo arabo-palestinese aveva come uno tra i primi obiettivi quello di portare il prima possibile i terroristi responsabili di un attentato fuori dal territorio nazionale questo è evidentissimo in tutta una serie di casi anche di un certo rilievo penso ad esempio al caso dell'ambasciata saudita a Parigi piuttosto che al caso della crisi sempre dell'ambasciata francese appunto a Khartoum in realtà noi ci troviamo di fronte a una serie di gestioni delle crisi in cui il primo obiettivo è quello di far uscire i terroristi dal territorio nazionale perché questo è importante perché ovviamente portare i terroristi fuori dal territorio nazionale significava non averli in carcere il che avrebbe come dire innalzato la possibilità di attentati terroristici contro il paese ospitante insomma al grado diciamo dei terroristi e ovviamente secondo elemento perché effettivamente mantenere i terroristi sul proprio suolo poteva causare delle crisi internazionali con gli stati sponsor del terrorismo queste diciamo erano le due ragioni quindi questa prassi a cui Moro fa riferimento nelle lettere è una prassi abbastanza comune è una prassi di quasi potremmo dire autodifesa dello Stato eticamente come dire eccepibile ecco però senz'altro efficace uno dei casi più così evidenti rispetto a questo è ad esempio un caso che avviene pochi mesi prima della strage di Fiumicino del 73 avviene al confine tra l'Austria e le Ciecoslovacchia e all'epoca il cancelliere Krajski assolutamente spinge anche nonostante il biasimo della stampa affinché questi terroristi responsabili di un attentato contro un treno vengano il più presto possibili portati fuori dal territorio nazionale quindi l'unicità tanto spesso sottolineata di questa trattativa o la richiesta di un trattamento preferenziale di Moro rispetto alla possibilità di trattare con i terroristi non è affatto una unicità assolutamente anzi è quasi veramente una consuetudine quindi ci troviamo veramente di fronte a un rovesciamento totale di prospettiva questa penna ha deciso che non vuole stare con me mettiamola qua e e questo è un elemento a mio avviso importante l'altro elemento importante nella costruzione di questa narrazione perché io penso che possiamo veramente parlare di narrazione è il preconcetto nei confronti di Moro allora è vero che ci sono le lettere ma è anche vero nel libro lo troverete che se non erro nel 1971 quindi in tempi assolutamente non sospetti e lontani dal rapimento di Moro c'è un documento di un'agenzia interna al ministero degli interni dell'interno che appunto individua in Moro il sostenitore e il finanziatore di Fatah e dei gruppi terroristici ad esso correlato allora ovviamente ci troviamo di fronte a quella che oggi si chiamerebbe una fake news però è molto curioso quando questo documento viene redatto Moro è ministro degli esteri quindi un organo interno al ministero dell'interno dice che il ministro degli esteri e dello stesso governo è coinvolto in questo genere di finanziamento di attività terroristiche questo è come dire un elemento a mio avviso abbastanza chiaro di un preconcetto nei confronti di Moro della sua politica di apertura della sua politica mediterranea in particolare che attenzione viene ripreso in modo molto evidente appunto dalla dichiarazione di Moro scusate di Cossiga tra il 2005 e il 2008 e non viene ripreso viene ripreso solo in parte dalla pubblicistica che si occupa del lodo o accordo che ancora non ha la dizione di lodo Moro nel corso degli anni 80 e 90 perché non è che di lodo o di accordo non se ne parli più ci sono alcune occasioni nel corso degli anni 80 e 90 in cui la stampa si rioccupa di questo tema in occasione magari della fuga di un terrorista o comunque diciamo di un fatto di cronaca e non parla però di lodo Moro parla di un accordo e parla di un accordo facendo riferimento ai principali diciamo leader della democrazia cristiana quindi c'è Moro ma non c'è solo Moro quindi diciamo il riferimento e l'addizione lodo Moro nasce effettivamente possiamo dire con queste dichiarazioni di Cossiga io riprenderei dalle narrazioni dal tema delle narrazioni perché è un tema interessantissimo potente poi tornerò anche a questa fake news all'epoca le chiamavano polpette avvelenate quindi ecco notizie del diavolo le chiamava Giorgio Bocca però restiamo un attimino sulle narrazioni io vorrei così approfittare del fatto per dare l'opportunità a tutti di sentire non solo una brava professoressa di storia delle relazioni internazionali ma un'ottima divulgatrice perché qui c'è un tema che percorre tutto il libro molto interessante oltre che portare fuori questo lodo questa politica dall'ambito in cui era stata strumentalmente confinata in realtà il tuo come altri ottimi saggi di storia internazionale ci offre spalanca le finestre e ci offre una prospettiva completamente diversa sul respiro che aveva la politica estera italiana negli anni della guerra fredda perché tra le narrazioni per carità i vincoli e la pesantezza dei vincoli della guerra fredda sono noti ma la cosa interessante che sta facendo la stereografia da molti anni è riscoprire gli spazi di manovra ampi e importanti che avevano politici intelligenti in primis Aldo Moro Ilaria Moroni ricordava la politica nei confronti degli stati africani Aldo Moro usa magistralmente la tribuna dell'ONU Aldo Moro è l'artefice di una politica di apertura al riconoscimento alla Cina eccetera eccetera per cui in un certo senso tu fai respirare quello che era lo spessore che poi appunto è diversificato perché non tutti i politici e non tutti i ministri degli esteri hanno la stessa abilità la stessa visione vorrei dire però questa politica medio orientale dell'Italia appunto si dipane in un periodo molto lungo nel libro valorizzi molto e questo come dire quanto risuona che ovviamente il rapporto c'è ovviamente questa questione di diplomazia di sicurezza questa diplomazia del terrore per tutelare il territorio nazionale ma negli accordi che si fanno con gli stati sponsor del terrorismo ovviamente entrano questioni di politica energetica economica perché parliamo di Libia e di Iraq quindi nella politica medio orientale entra la questione energetica della nostra dipendenza energetica e quindi ti chiederei un pochino di disegnare come in realtà rispetto alla narrazione schematica dell'Italia bloccata nella guerra fredda fosse tutto molto complesso e poi ti do una sollecitazione specifica a partire da una frase scritta da un altro studioso Gianluca Falanga che ha lavorato lavora in Germania ha lavorato sugli archivi della Stasi e tra l'altro ha tirato fuori dei documenti proprio del periodo dei 55 giorni in cui si parla di contatti tra il vertice dei servizi della Germania Est Eric Milke e il vertice fondamentalmente dell'intelligence palestinese quindi documentazione molto interessante però Falanga fa un'osservazione che secondo me è ancora confinata in una visione vecchia perché lui scrive in un articolo per la testata online Valigia Blu resta francamente piuttosto opaca la compatibilità dei Lodi quindi non solo quello italiano anche quello degli altri paesi con gli impegni atlantici e invece correggimi se sbaglio Valentine ma leggendo il tuo libro io ho l'impressione non solo che ci fossero degli spazi di compatibilità e di incastro ma che tra i tanti non detti della politica internazionale della ragione di Stato ci fosse il fatto che per gli Stati Uniti fosse molto comodo che degli alleati affidabili potessero essere un canale di comunicazione un canale per cose che loro non potevano dire e fare grazie grazie sì devo dire mi fa molto piacere di parlare anche affrontare questo tema del Lodo anche da un angolo visuale diverso perché è importante secondo me restituisce un po' come dire il contesto nel quale ci si muoveva all'epoca perché senza contesto poi veramente si rischia di cadere un po' di scivolare nella valorizzazione estrema nell'ipervalorizzazione di un accordo ma bisogna capire da dove nasce questo desiderio questa apertura allora senz'altro condivido questa idea cioè l'idea che come dire da parte se noi prendiamo un punto di vista differente cioè il punto di vista appunto dei movimenti estremistici ma anche e soprattutto di alcuni paesi che poi diventano chiaramente paesi santuario ma anche paesi sponsor del terrorismo internazionale quindi in particolare in questo caso l'Iraq nei primissimi anni 70 poi la Libia e poi appunto in parte la Siria noi vediamo come come dire il la loro azione di politica internazionale venga sotto un certo profilo condizionata volutamente diciamo e venga sviluppata intorno a tre grandi basket no? appunto la politica energetica da un lato la politica legata appunto allo scambio di armi dall'altro e in misura minore e certamente meno palese anche il sostegno al terrorismo internazionale quindi rispetto a questo è chiaro che lo Stato italiano più di altri al pari forse della Francia ma sicuramente in misura minore rispetto ad altri paesi europei è uno Stato che si trova a fare i conti con una minaccia di sicurezza internazionale sotto vari profili e con degli interlocutori che giocano seguendo quasi potremmo dire una dottrina che era quella di Kissinger del linkage cioè giocano su tre piani negoziali diversi giocano appunto utilizzando le armi l'energia e in misura minore del terrorismo per condizionare le politiche degli stati occidentali sotto questo profilo l'Italia risponde a una sollecitazione così significativa e anche così violenta per certi versi risponde bene risponde dando una risposta di uno Stato che sotto un certo profilo mostra di avere una visione questo è vero secondo me soprattutto diciamo negli anni di Moro ma poi anche successivamente mostra di avere la visione di un paese che non vuole solamente tamponare un'emergenza di sicurezza ma vuole gestire la situazione della sicurezza dell'area del Mediterraneo come vuole gestire questa situazione la vuole gestire qui rispondo alla sollecitazione che facevi appunto citando Gianluca Falanga vuole rispondere ristando un alleato fedele degli Stati Uniti quindi l'atlantismo a mio avviso non viene mai messo in dubbio ma allo stesso tempo svolgendo e come dire autoavvocandosi il ruolo di cerniera tra il mondo occidentale e il Mediterraneo e il mondo dell'Europa il mondo scusate del Medio Oriente questo è molto evidente ad esempio per arrivare insomma un po' più avanti rispetto al periodo Moroteo questo è molto evidente secondo me anche negli anni Ottanta negli anni Ottanta ecco questo possibile biasimo all'atlantismo all'Italia può trovare una sua concretizzazione nel caso dell'Achille Lauro voi sapete che insomma appunto nell'ottobre dell'85 viene per la prima volta dirottata una nave invece di un aereo come oramai diventata consuetudine questa nave è una nave battente appunto bandiera italiana però ospitante una serie di cittadini di varie nazionalità primi fra i quali insomma appunto gli statunitensi in quel caso dopo una lunga querella diciamo tra il governo italiano e l'amministrazione statunitense e con un colpo di mano quasi inaspettato con la crisi di Sigonella il governo Craxi decide sostanzialmente di lasciare andare Abu Abbas che era appunto ufficialmente diciamo il mediatore palestinese che stava negoziando la crisi tra i governi occidentali e appunto il commando presente sulla nave ma che era accusato dagli Stati Uniti che aveva ottenuto delle informazioni di Israele di essere sostanzialmente la mente dell'attentato quindi di fingere di fare il negoziatore ma in realtà di essere la mente e il vero capo del commando allora in quell'occasione ovviamente gli americani si arrabbiano perché insomma poi si scopre peraltro che l'unica vittima di questo dirottamento è appunto un signore di cittadinanza appunto americana ma appunto ebreo invalido peraltro Leon Klinghofer che viene brutalmente assassinato e lanciato fuori il cui corpo il cui cadavere viene lanciato insomma fuori dalla nave quindi gli Stati Uniti i verbali lo dimostrano insomma nel volume ne do conto gli Stati Uniti rivendicano il loro ruolo di senior partner nell'alleanza con l'Italia e anche come dire dicono all'Italia vabbè noi siamo sempre stati fedeli amici voi non vi comportate tanto da fedeli alleati a questo punto allora in questa mossa che ripeto compie il governo Craxi ma con un sostegno appunto importante da parte di Andreotti in cui si potrebbe aprire un enorme parentesi sul ruolo appunto di Andreotti nel lodo negli accordi l'Italia fa una mossa azzardata perché effettivamente per rispettare l'accordo che aveva diciamo rispetto al dialogo con l'organizzazione per la liberazione della Palestina per rispettare tutto sommato lo status quo cioè la situazione di compromesso e di equilibrio che aveva trovato in questo ambito con questa organizzazione sfida e come dire mette quasi a rischio l'alleanza con gli Stati Uniti ma in realtà quella che diciamo la mia percezione insomma della crisi è che Craxi e Andreotti giochino un gioco di squadra quasi anche se non sembra inizialmente giochino un gioco di squadra con l'idea profonda che il vincolo atlantico è un vincolo troppo forte tant'è che la crisi tutto sommato anche con gli americani rientra in tempi abbastanza rapidi nonostante gli Stati Uniti appunto avessero minacciato insomma non di interrompere le relazioni diplomatiche però senz'altro di condizionare l'amicizia con l'Italia rispetto a questi eventi sul fatto che è una grande comunicatrice sottolineo perché lo fai sembrare facile ecco non vero si capisca assolutamente no 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 ti ringrazio perché in realtà è molto difficile parlare di questi temi così anche lunghi nel tempo in maniera così semplice quindi era assolutamente un complimento allora io vorrei iniziare ad entrarmi nella questione Bologna magari facciamo un paio di riflessioni sia su Benedetta su questo perché come tu l'introduzione diciamo un po' lo schema del libro un po' lo specchio di quello che tu vuoi raccontare dopo quindi mi rifaccio sempre lì perché tu sin dall'introduzione ovviamente leghi il Lodo Moro quindi quello che viene definito il Lodo Moro ha la dichiarazione di Cossiga del 2005 all'articolo Cazzullo e quindi strettamente connesso alla pista palestinese quindi nonostante il percorso giudiziario della strage di Bologna avesse preso una strada assolutamente lontana da quello sempre Cossiga perché poi alla fine ritorna sempre nella storia con le sue dichiarazioni se ne esce con il Lodo Moro riportandoci indietro e quindi ovviamente legando in maniera denigratoria a Moro e quasi dando nuovamente la colpa a lui di decisioni dello Stato quantomeno discutibili e soprattutto la cosa più importante cancellando il percorso giudiziario che c'era stato fino a quel momento poi conosciamo bene le dichiarazioni di Cossiga Cossiga era uno che quando faceva una dichiarazione era rumorosa i giornali la riprendevano i telegiornali quindi insomma non è che cadeva nel nulla e si inizia a parlare della pista palestinese legata alla strage di Bologna ora la mia domanda però quale vuole essere quando tu hai iniziato a lavorare su questo hai iniziato a fare ricerca su questi documenti ti è stato subito evidente come tutto ciò fosse un depistaggio e è stato è stato diciamo sia dal punto di vista della stampa che perché vorrei differenziare le fonti quindi archivi e stampa quindi fonti giornalistiche come hai ricostruito questa vicenda della pista palestinese legata a Bologna e quali sono state le evidenze e penso che Benedetta voglia aggiungere su questo ho chiesto il microfono all'autrice così ti come dire ti interroghiamo sul tema da due lati no poi con tutto vorrei precisare per chi non ha ancora letto il libro che io ho molto apprezzato la trasparenza con cui introduci il tema in introduzione ma al tempo stesso con grande rispetto e delicatezza perché comunque è anche tentacolare la materia della strage quindi questo è anche un saggio che lavora proprio su altra documentazione quindi diciamo io mi aggiungo a Ilaria facendo alcuni come dire un po' di punteggiatura specifica anche collegandomi al fatto che tu hai parlato di una crisi importante cosa non banale che si svolge però nel 1985 dal libro emerge in modo chiarissimo l'espressione molto bella io me la sono appuntata perché è proprio molto bello definire anziché usare l'espressione lodo che è qualcosa di fisso e di bloccato e anche tutto sommato di schematico Lomellini parla di un processo dinamico di negoziazione continua però diciamo per collocare nel tempo io ti interpello su due cose la prima è che diciamo il caso Sbelli la pista palestinese al di là della presenza di un tedesco Kram che sarebbe stato collegato al terrorista internazionale Carlos che però è una figura anche molto particolare nel terrorismo internazionale a Bologna fondamentalmente dice il movente della strage sarebbe l'arresto di un giovane collegato al movimento palestinese nel ottobre del 1979 stava trasportando dei missili dei piccoli missili insieme a un esponente importante dell'autonomia operaio organizzata e visto che Valentin insegna all'università di Padova la prima osservazione che faccio di contesto storico è ma possiamo stupirci di un arresto nell'ottobre 79 in Italia quando nell'aprile 79 c'è stato il clamore degli arresti del 7 aprile quindi diciamo che sarebbe stato molto difficile immediatamente liberare la persona ma la storia degli accordi ci insegna che spesso i tempi dei negoziati richiedono qualche mese c'era grande realismo dai due lati questo è un aspetto quindi la pista palestinese si basa sull'idea in quel momento salta l'odo e Bologna è una ritorsione quindi la prima domanda è sulla base di quello che hai ritrovato se non risulta invece che questo questa politica questa strategia questo accordo in realtà tiene ben oltre il 1980 l'altra è sempre una domanda che si rifà al contesto storico e alle caratteristiche che emergono da questo terrorismo palestinese questo terrorismo internazionale perché a me ha sempre colpito molto come i repertori d'azione sono caratteristici il terrorismo palestinese è efferato è clamoroso ma un'azione come la strage di Bologna assolutamente non entra nei loro repertori né come obiettivi né come modalità non a caso Cossiga insiste molto sull'esplosione accidentale da qui il blame su Moro sotterraneamente colpevole responsabile degli 85 morti perché Cossiga continua a insistere questa cosa viene sempre ripresa sull'esplosione accidentale quindi su un trasporto uno di questi trasporti accidentali è andato male e qui mi permetto di dire che ci sono centinaia di pagine di perizie riprese anche negli ultimi processi nella sentenza Cavallini del 2021 che ad nauseam dicono che quel tipo di esplosiva era molto stabile quindi diciamo ecco mi sono dilungata un po' ma così almeno ti facciamo trattare il tema come tu vuoi ti do un'ultima suggestione che è adesso il libro è uscito da quasi un anno perché mi pare che si è uscito nel gennaio 2022 quindi ha compiuto nove mesi quindi una gravidà il tempo di una gravidanza è un tempo lungo come è stato come autrice di questo libro trovarsi comunque di fatto in mezzo a tutto questo dibattito ti rendo il microfono adesso ne ho due fin troppo grazie allora beh insomma mi avete messa sui carboni ardenti più che altro prima o poi allora dunque innanzitutto una precisazione giustamente perché come diceva appunto Benedetta io non cerco di trattare questi temi con un grandissimo rispetto un grandissimo tatto nei confronti delle vittime e anche nei confronti della nostra storia perché la nostra storia siamo noi fondamentalmente quindi c'è bisogno secondo me quando si parla e quando si trattano certi temi di essere molto cauti allora data questa premessa io non mi sono occupata della strage di Bologna questo lo scrivo nel libro a un certo punto adesso lo metto in copertina così perché è un tema molto ampio è un tema che andrebbe trattato seriamente storicamente storiograficamente e non escludo che un domani magari mi venga la voglia di farlo o magari verrà qualcun altro però ecco forse qualche cosa la storia del Lodo può aggiungerla diciamo può fornire qualche chiave di lettura nuova per rileggere appunto la possibilità di una pista palestinese sulla strage di Bologna una pista che peraltro è coeva all'attentato nel senso che in realtà emerge a poche settimane di distanza nelle carte appunto del Ministero degli Interni che ho sbirciato pur non avendo scritto appunto un saggio su questo però diciamo che questa pista emerge ed è una pista che ovviamente punta immediatamente diciamo alla questione vendetta che Benedetta appunto e anche Ilaria citavano poc'anzi cioè l'idea che ci possa essere stata una volontà di vendetta rispetto a questo arresto dell'ottobre del 79 di un militante insomma anche di un certo livello palestinese che era riconducibile al fronte per la liberazione della Palestina cioè la organizzazione palestinese che aveva usato ampiamente lo strumento del dirottamento tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 guidata da George Habash e allora rispetto alla ricostruzione del lodo secondo me diciamo questa idea della vendetta non regge per due ragioni fondamentalmente la prima è che noi nella storia del lodo così come l'ho potuto ricostruire io non vediamo mai la prevenzione dell'arresto cioè non c'è mai un caso in cui effettivamente dal ministero degli interni piuttosto che da un altro ente di appunto un'altra istituzione governativa venga l'indicazione di non arrestare i palestinesi questa è come dire un'osservazione secondo me importante anche perché forse banalmente ma era irrealizzabile cioè concretamente parlando cosa voleva dire prevenire gli arresti voleva dire che tutte le pattuglie che giravano per l'Italia dovevano essere coscienti del fatto che appunto i palestinesi con armi trovati in flagranza di reato non dovevano essere arrestati è irrealistico anche perché sarebbe trattato del segreto di Pulcinella aggiungo un altro elemento a questo a sostegno di questa idea all'inizio degli anni settanta nel contesto della collaborazione europea a livello di ministeri degli interni il rappresentante italiano è il più diciamo pugnace sostenitore del fatto che il tema della gestione del terrorismo debba rimanere esclusiva competenza dei servizi segreti che non debbano essere coinvolti neanche i ministeri ad alto livello neanche il ministero degli interni al più alto livello neanche il ministero degli esteri perché il timore era proprio questo della fuga di notizie quindi è evidente che a mio avviso molto banalmente non è realistica l'idea della prevenzione e comunque per quello che ho potuto ricostruire non si concretizza il lodo è piuttosto la gestione dell'arresto non la prevenzione e questo già ci dà a mio avviso un elemento un elemento importante l'altro elemento lo ricordava prima Benedetta allora il volume ha delle date sulla copertina 1969-1986 in realtà io sono arrivata fino alla fine degli anni 80 ma sull'Italia insomma purtroppo lì siamo ancora in deficit di documentazione però almeno fino all'86 a mio avviso è abbastanza evidente che il lodo regge cioè l'accordo regge regge in modo ondivago nel senso che ondivaghi sono gli interlocutori cambiano la minaccia terroristica cambia gli interlocutori cambiano l'Iraq dopo il 73 non viene più menzionato rimane come stato sponsor individuato appunto dai vari stati europei la Libia senz'altro e poi si aggiunge la Siria allora nel variare però di questi interlocutori l'accordo permane e ne è a mio avviso dimostrazione questo caso misconosciuto fino adesso appunto di Saeed Rashid che è diciamo era un membro di alto livello del comitato rivoluzionario arabo libico che viene liberato grazie a quello che io non potrei definire altrimenti come un gioco di prestigio di Giulio Andreotti all'epoca ministro degli esteri che riesce attraverso la collaborazione con il ministro degli esteri francese Sheilson a liberare Saeed Rashid appunto membro di alto livello del governo libico e accusato di essere il mandante dell'assassinio di un oppositore politico libico avvenuto appunto in Italia nel 1980 quindi rispetto ad esempio alla pista libica insomma lì siamo abbastanza come dire di fronte all'evidenza che questo accordo regge ripeto la mia competenza arriva fino a qua io voglio essere molto onesta mi pare che ecco qualche elemento possa essere aggiunto alla riflessione certo uno studio sistemico sulla strage sarebbe auspicabile anche benvenuto direi non posso trattenermi da dire una cosa io sono un po' anarchica quindi rompo l'alternanza però perché credo che sia importante dire una cosa che dal tuo libro esce tangenzialmente ma esce in modo chiaro non si prevengono gli arresti gestire gli arresti cosa vuol dire che l'interlocutore principe e lo strumento della ragione di stato è il porto delle nebbie è la procura di Roma diciamolo perché è la cosa veramente che io allora io mi occupo non solo di vicende interne ma io ho una grossa passione proprio per questa dialettica tra politica e magistratura e che cosa sono stati i rapporti tra alta magistratura e potere esecutivo tra gli anni 70 e 80 ed è davvero perturbante molto interessante e non sarà una ricerca facile perché lì si viaggia si può trovare molto però ovviamente ci vuole molta arte nel gestire la documentazione però diventa molto chiaro che appunto viene gestito con dei rapporti con la famosa procura più vicina agli interessi del potere politico quindi poi è anche molto interessante la cosa che tu rilevi che a un certo punto però la tua azione del lodo arriva a lambire il quirinale ecco io ti lanciavo questa sollecitazione perché magari può essere interessante anche raccontare a chi ci ascolta questo aspetto poi passo la parola a Ilaria sì beh allora spendo due parole visto che senz'altro cioè diciamo che c'è una commistione di gestione importante c'è in particolare il caso diciamo di questi tre terroristi arrestati nel 1976 a Fiumicino mentre stanno compiendo un attentato terroristico un attentato omicidio poi fondamentalmente nei confronti del ministro degli esteri in carica libico che vengono arrestati e che appunto grazie a una abilissima direi mediazione da parte del ministero degli esteri con la magistratura e con il quirinale vengono sottoposti a giudizio con l'assicurazione che appunto gli sarebbe stata concessa la grazia tant'è che appunto suggeriscono appunto all'avvocato difensore di dire ai tre indagati di smetterla di fingersi non libici perché stavano appunto tentando questa questa strada perché in realtà nel momento in cui non fossero risultati realmente libici non c'era più nessun interesse a gestire la vicenda in altro modo quindi insomma senz'altro diciamo è una commissione importante che andrebbe indagata ulteriormente quello che io ho trovato è stata diciamo la commissione di alcuni esponenti non posso dire non posso parlare diciamo di una commissione ampia o di contatti ampi qui ho trovato soprattutto due casi questo appunto dei tre terroristi e quello di appunto Said Rashid in cui c'è evidentemente insomma come dire un accordo non solo diplomatico ma un accordo appunto anche con il potere giudiziario in parte però senz'altro è una questione che andrebbe indagata andrebbe indagata magari nel lungo periodo come suggerisci e tu beh per indagarla tu hai fatto ricerca quindi la domanda che ovviamente a questo punto noi ti facciamo in quanto appunto archivio quindi hai anche fatto ricerca sulle nostre sulle nostre carte ma quello che mi interessa di più è stato come è stata la tua ricerca nell'archivio del ministero degli esteri e soprattutto se hai fatto un paragone con l'Italia e gli altri paesi diciamo dove hai consultato documentazione se siamo più o meno virtuosi e quanto è stata difficile la tua ricerca anche per dare agli altri che ovviamente vogliono cimentarsi in questo tipo di lavori una mano a delle dritte se così si può dire il suggerimento è non fatelo ecco appunto no allora intanto colgo l'occasione veramente in modo sentito e non così formale per ringraziare l'archivio in particolare Ilaria Moroni perché io ricordo un frangente in cui ero abbastanza disperata non riuscivo a trovare dei riscontri e ci siamo sentite cento volte anche telefonicamente devo ringraziare Giulia Corradi e Valentina Stazzi che sono le archiviste che si occupano dei documenti perché sono impagabili quindi ringrazio che stendo questo prezioso e devo dire soprattutto in questo ambito a mio avviso la possibilità di uno storico di ricostruire uno scenario è in larga parte data veramente dalla sintonia che si crea con gli archivisti dalla disponibilità dal loro intuito a volte perché talvolta ci troviamo di fronte della documentazione che non è organizzata non è inventariata e quindi veramente è un lavoro di squadra per certi versi quindi veramente un ringraziamento più che sentito come siamo messi allora domanda spinosa dopo non mi fanno più entrare negli altri archivi allora siamo messi in modo variabile nel senso che allora gli archivi statunitensi e anglosassoni hanno un livello di organizzazione molto elevato e dalla possibilità di digitalizzare fotografando grandi quantità di documenti in tempi molto limitati ovviamente fare ricerca in quegli archivi è molto facile è vero che il materiale è tanto è vero però che è anche ampiamente inventariato catalogato e che anche giornalmente c'è la possibilità ma perché hanno i fondi per farlo ovviamente di dare una una così di permettere la visione di un grande numero di documenti giornalmente in parte possiamo fare lo stesso discorso anche per gli archivi del ministero degli esteri francese dove devo dire insomma ho trovato anche ho trovato tantissima documentazione molto interessante sono abbastanza disponibili devo dire e anche lì c'è stato veramente un lavoro di squadra perché questi temi in particolare che sono in parte classificati in parte no venivano sottoposti al vaglio di un archivista dedicato a me e a un'altra persona giornalmente che vedeva i documenti prima che io li potessi consultare a volte con una certa rabbia perché mi tirava via un faldoncino una volta ho anche provato a chiedere se almeno mi diceva il titolo ma niente e quindi sostanzialmente insomma veramente è un lavoro di squadra un lavoro importante il lavoro il lavoro negli archivi italiani è forse meno semplice se si vuole nel senso che è purtroppo quello che manca e questo è un claim veramente nel senso che bisognerebbe aprire una riflessione ampia su questo è il personale la possibilità di aprire per tante ore al giorno ad esempio molto banalmente la possibilità quindi di avere del personale che ti segue e che ti aiuta anche in parte nella ricerca e questo è diciamo vero senz'altro per gli archivi privati è vero anche in parte per altri archivi appunto legati a istituzioni anche se devo dire anche all'archivio centrale di Stato io ho trovato anche all'archivio del Ministero degli Esteri una grande disponibilità e lì devo dire che la fiducia nei confronti dello storico che un po' tutto sommato insomma frequenta magari quegli archivi da ormai una ventina d'anni ha un impatto importante insomma si crea un clima di fiducia significativo e poi i risultati si vedono insomma non so se Benedetta vuole da ricercatrice che conosce molto bene gli archivi italiani tra l'altro ti ringrazio Valentina perché in realtà la differenza e le difficoltà sono tantissime chi lavora negli archivi o chi fa ricerca le conosce benissimo ovviamente centrale il problema economico degli investimenti perché quando alla base non c'è quello tutto il resto ovviamente manca perché è il nocciolo di tutto Benedetta ma io resto su questo tema però vorrei collegare le difficoltà di accesso in particolare a certe tipologie di carte con anche le narrazioni che si consolidano perché appunto come vi dicevo ci sono appunto quattro pagine di fonti archivistiche quindi allora sarò molto specifica chiaramente tu lavori moltissimo su carte del Ministero degli Affari Esteri però quello che si capisce è che chiaramente è anche un tema di governi allora per esempio sull'Italia quello che balza agli occhi è che tu consulti i fondi per esempio il fondo Mariano Rumor versato al Senato ma non c'è un fondo presidenza del Consiglio e questo ovviamente mi ha colpito perché io trascorsi non dico i 30 ma i 40 anni per esempio io ormai più di tre anni che sto sbattendo la testa contro i muri perché c'è un tema non solo di mancati versamenti e qui c'è un tema di volontà politica oltre che di mancanza di risorse secondo me perché non dobbiamo ricordarci che la Sisco anni fa ai tempi di non mi ricordo quale governo Berlusconi prese posizione perché l'archivio presidenza del Consiglio non venisse costituito come archivio separato ma andasse all'archivio centrale dello Stato proprio anche come fatto di significato politico di trasparenza io vedo per esempio che tu vedi l'archivio de Margaret Thatcher quindi non so come dire c'è un archivio Mitterrand uno studioso che viene qui all'archivio Flamini e lo frequenta dove voglio arrivare allora a un certo livello è chiaro che bisogna fare ricerca negli archivi nazionali e allora in Italia per esempio c'è il problema che le carte della Presidenza del Consiglio tante volte non si considera che si va a lavorare sulle fonti giudiziarie perché sono le uniche dove emergono degli scampoli di cose non versate altrove c'è il tema dell'archivio privato dove spesso finiscono carte che dovrebbero stare nell'archivio invece nazionale allora qui si pone un tema per cui ti interpello diciamo in senso lato su questo perché chiaramente già si tratta di materie dove molto c'è di alluso molto di non scritto molto appunto emerge da carteggi riunioni da cose in cui si fa riferimento ad altro perché chiaramente le famose pistole fumanti lo storico non le cerca neanche ovviamente però diciamo è un tema grosso e perché io evocavo il tema delle narrazioni perché se ha funzionato così bene il trucchetto di confinare tutto a un patto l'osco di servizi segreti anche magari con uno statista un po' levantino perché funziona questo perché in assenza o con la grande difficoltà a poter costruire il quadro complessivo ovviamente noi abbiamo i servizi segreti che non solo in Italia sono il braccio del potere esecutivo sono un braccio che ha la missione di essere invisibile e sono un braccio che ha anche la missione di negare anche davanti all'evidenza il fatto che ci sia un coinvolgimento di livelli superiori perché chiaramente il discarico il plausible denial cioè il deniego plausibile è un cardine laddove si parla di politiche fondate su una ragione di Stato che da un punto di vista etico e davanti ai cittadini sono difficilmente giustificabili quindi ti chiedo un pochino sia la tua impressione su questa problematica di commissione tra carte pubbliche e private se ti è capitato di riscontrarla e poi più in generale appunto anche sul peso che ha sulle narrazioni ma la grande responsabilità secondo me è proprio questa dei buchi neri cioè più si lascia in sondato un tema che peraltro è un tema che ha come dire un peso nel dibattito pubblico e anche nella memoria delle singole persone e più queste narrazioni distorte dietrologiche emergono questo è evidente anche perché devo dire come dire c'è un po' una corresponsabilità le narrazioni dietrologiche sono molto affascinanti e poi hanno questo elemento positivo per il pubblico che sono molto facilmente intellegibili cioè spiegano in una frase un tema che è molto complesso cioè spiegare ad esempio cosa è successo con l'Achile Lauro piuttosto che cosa è successo con Fiumicino 73 in dieci frasi oppure fare una copertina nella quale mi ricordo anni fa appunto in occasione di uno degli anniversari dell'assassino di Moro si promette la verità sul caso Moro è molto facile e attira un grande numero di lettori che io non avrò mai probabilmente quindi cioè ci troviamo di fronte a una narrazione distorta il cui fattore generativo è probabilmente proprio questa anche assenza di fonti voluta o dovuta appunto a una carenza di sostegno economico o entrambe perché poi c'è anche ovviamente un esso di causalità tra questi due elementi che apre il baratro a una serie di narrazioni che sono sostanzialmente basate su poche evidenze scientifiche su questo ad esempio anche in tempi recenti sul caso della sinagoga l'attentato alla sinagoga dell'ottobre dell'82 io devo dire ho guardato e lo dico io non amo fare polemica però insomma in qualche modo secondo me bisogna un po' confrontarsi con questi temi non ho particolarmente apprezzato diciamo l'utilizzo sporadico che è stato fatto di singoli documenti estrapolati appunto da un contesto più ampio perché questo restituisce al pubblico una visione distorta è legittimo che ciascuno appunto possa fare il proprio lavoro uno scoop ma allo stesso tempo credo che certi temi appunto vadano trattati con attenzione e uno studio sistematico lo consente una lettura così occasionale è un po' più complessa insomma come dimensione beh sulla questione dell'uso dei singoli documenti io e Benedetta su questo abbiamo una battaglia volevo dire una battaglia persa ma in realtà è una come dire è una è una lotta di lungo periodo che continuiamo a portare sì esatto una trincea brava non mi veniva l'espressione giusta perché non amo le metafore belliche ma purtroppo non ce ne sono altre però c'è proprio poi in un certo senso questa cultura dell'immediato anche la possibilità di pubblicarli autonomamente c'era già perché c'erano le copertine ma adesso appunto tramite con la rete lo si può fare ancora di più poi la cosa secondo me più grave è che quando l'accesso alle fonti è così limitato ovviamente questi scoop o comunque questi usi non sono solo scoop giornalistici perché abbiamo esempi di tantissime pubblicazioni con uso strumentale di documenti dove si pubblica quel documento e si costruisce intorno al documento una narrazione quando invece anche solo chi conosce gli archivi sa benissimo che intorno a quel documento tu prima parlavi di contesto quindi quanto è importante ricostruire il contesto storico politico che è legato a quel singolo documento e quanto è importante anche analizzare i buchi che ci sono intorno a quel documento perché ovviamente è vero che noi non potremmo mai ricostruire tutto perché ovviamente i documenti non ci raccontano e non possono raccontarci tutto ma è pur vero che se avessimo una disponibilità documentale molto più ampia di quello che abbiamo e questa è esclusivamente una scelta politica e lo dico da membro della commissione che diciamo ha attraversato le tre direttive Prodi Renzi e infine Draghi e quindi da membro del comitato che si occupa tra virgolette della declassifica di vigilare sulla declassifica della documentazione prodotta versata e declassificata nelle direttive il termine trincea non è neanche come dire non basta e quindi ecco io mi sono scontrata insieme ad altri storici o membri dell'associazione dei familiari con resistenze vive cioè il ministero dei trasporti non ha più l'archivio di tutto quello che riguarda il ministero dei trasporti che poi nel tempo è diventato altro perché ovviamente si è privatizzato quindi abbiamo Enac abbiamo Ferrovie dello Stato e via dicendo non esiste documentazione coeva alle stragi e noi sappiamo che treni e stazioni sono state coinvolte nello stragismo italiano anche Ustica su questo non c'è quasi nulla non c'è documentazione coeva alle stragi per cinque anni un povero funzionario perché io dico povero funzionario perché poverino era lui che rispondeva al tavolo ci ha portato in giro nel senso fatto perdere tempo dicendo che si era trovato a Ciampino questo mega hangar dove probabilmente poteva esserci tutta la documentazione del ministero degli esteri si è fatto un sopralluogo a Ciampino a Ciampino non c'era nulla quindi quando mancano pezzi di documenti dello Stato così importanti e lo Stato ha il dovere di conservarli tra l'altro la norma il codice dei beni culturali è chiarissimo su questo anzi forse è uno dei nostri dei più evoluti quindi questa battaglia per la trasparenza penso anche che debba passare da ricerche serie come quella che hai fatto tu perché servono per diciamo sfrondare un po' di misteriologia di diciamo tante cose che alla fine rimangono sembra la verità rimangono nella testa delle persone quindi questa cosa del Lodo Moro è simbolica perché tutti quanti abbiamo letto anche in relazione tu lo rilevi anche nel libro delle Torri Gemelle cioè anche sull'attentato delle Torri Gemelle abbiamo stampa che rimanda all'Odo Moro quindi un po' sta bene con tutto ecco è come il nero diremmo però ecco ti ringrazio e mi auguro che tu continui a lavorare in questa direzione e noi siamo diciamo abituati a queste presentazioni brevi ma diciamo piene dense e anche perché abbiamo un pubblico molto assiduo che ci segue da casa e che ringrazio come ringrazio chi è intervenuto oggi qui perché c'è la sala piana e ne siamo contenti ringrazio Valentine di essere stata con noi ringrazio Benedetta Dobaggi di avermi accompagnato in questa e le cedo il microfono perché vedo che ha un'incontinenza di parole in questo no 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 vorrei dire una cosa importante ai presenti allora Valentin Lomellini Lodomoro terrorismo e ragione di stato 69-86 pubblicato dagli editori La Terza per qualche disguido adesso fisicamente non è qui ma si trova dovunque si trova online si trova fisicamente quindi davvero in maniera non retorica ecco lo trovate dappertutto ecco anche se non qui sul banchetto per quello dico per le persone a casa grazie grazie per l'ospitalità se posso dire davvero grazie Laria Moroni all'archivio Flamini grazie Benedetta per i commenti anche per lo spot finale e vi ringrazio di averci ascoltato e seguito grazie mille grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti